primo video del centro paula selvatica il pettirosso di modena pubblicato sul profilo facebook della prima liberazione degli anatroccoli della stagione dopo essere stati curati per mesi la mamma e i suoi piccoli vengono ora lasciati in un corso d'acqua nuotano assieme coordinati e compatti come sempre come di piccoli soldatini in marcia però verso la libertà